Buon lavoro qui da parte del 3 della Cremonese, che appoggia indietro per Mete, potrebbe buttarla in mezzo, chiede palla a Benassi, Occhereche si gira, cerca spazio per il tiro, che parte! Mamma mia! Cremonese in vantaggio! Cosa ha fatto Occhereche? 1-0, super gol del 77 Grigiorosso, il quinto in campionato, probabilmente il più bello. E poi tutti a festeggiare in panchina, ma cosa ha fatto Occhereche? Destro, che si infila sotto l'incrocio, con Mete, che alza la testa, troppo spazio, lasciato Occhereche, guardate dove si infila il pallone, bacina la traversa, nulla da fare per Onana, Cremonese in vantaggio, si mette le mani nei capelli Ciofani. 1-0, Cremonese, al primo tiro in porta, i Grigiorossi passano, una perla di Occhereche. 1-0, Cremonese, al primo tiro in porta, i Grigiorossi passano, 1-0, Cremonese, al primo tiro in porta, i Grigiorossi passano, una perla di Occhereche. 1-0, Cremonese, al primo tiro in porta, i Grigiorossi passano, una perla di Occhereche.